salve amici carissimi sono il joker analisi di un uomo che dopo aver visto taxi driver ed essere stato ipnotizzato nel late night show di deniro divenne un genio rovinato beh è tutta questa gente che lavora la mattina si sveglia presto c'è un traffico in città pazzeschi ah si signor signor invece stamattina diciamo ho fatto un giro in periferia ho trovato un buon bar che ispira tanta passione tanto sentimento quanto è bella in una giornata solo l'aria serena dopo la tempesta ho trovato questo bar red passion un bar molto bello c'era una un pezzo di figa come barista straordinaria vabbè bene cazzo devo farvi bello adesso è scesa la sera mi aspetta il re dei talk show murray franklin un bel pezzo d'uomo questo qui è riferente come david letterman sadico come jay lino 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 come sta lino benvi jay lino sfrontato come billy crystal simpatico come jimmy fallon stronzo appunto come denira appunto 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 e appuntato di voglia di ricominciare this boy's life sia un tipo la maurizia costanza super giù come età ci siamo franklin e non è a rita a rita rita franklin quello di freedom è un po più giovane si assomiglia a bill moore di lost in translation un uomo disilluso della vita che si diverte a prendere per il culo le giovinezze a farsi per acclarare se anni i coglioni per esistere a questo mondo cinico e stronzissimo un cuore d'oro sostanzialmente un bastardo come pochi due mesi fa gli iscrissi chiedendo se cortesemente poteva invitarmi in trasmissione dedicandomi la seconda serrat dopo un'accurata salazione dopo aver combattuto una sorta di modulo di iscrizione quelli del programma mi hanno scelto in vero sono stato abbastanza banale nel rispondere alle loro domande inserendo crocette un po a casaccio mi ho allegato loro anche la foto della mia faccia di culo devono esserne stati immediatamente colpiti come paolo san paolo sulla via di damasco folgorati dai miei occhi stralunati ma di mio so che mi piace il tabasco e anche il tabacco ma questi devono essere rimasti impressionati dalle fattezze del mio volto inquieto e inquietante con un'espressione da uomo ammosciatosi per colpa di troppe fregature come dice wizard non è wizard of lies c'è denir ma è wizard il mago peter boyle boyle di taxi driver appunto si tutto il mio disagio esistenziale deve essere partito da questo film la storia della mia vita god's lonely man di una battagliera anima contraddittoria che zig zag nella notte da straniero il redento e insonne per me questo film è stato l'illuminazione signor lei lei quando è che diciamo ha trovato la luce nella sua vita come un fulmine a ciel sereno anzi avevo solo 13 anni e già meditavo profondamente al suicidio quelle della mia età so che mi avrebbero sempre rotti i coglioni e preferì divenire un licantropo un lupo solitario precocemente nauseato da tutte quelle coetane scorribande frivole con le loro fighette del cazzo che questo le porte a vedere i film di mucine sono felice ma mucine mucine di solito i cinquantenni fanno così se io a 13 anni avevo già deciso di farmi le seghe dove sta il problema signor era un draculi nerba anzi puberale in pieno delirio adolescenziale comunque sia hanno accettato come vi ho detto il mio auto invito e stasera mori mi aspetta per testare veramente dal vivo in diretta se sono il più grande fan di deniro del globo terrestre come io affermo da tempo immemorabile mi hanno riferito che mori mi sottoporrà un quiz e se non risponderò esattamente ogni domanda se sgarrerò di una sola risposta mi daranno il reddito delle cittadinanze abito declassandomi fra i matti e ringoglionito inguaribile che ha bisogno di un sussidio perché oramai irreversibilmente estromesso dalla società che conta la società che conta se no te tagliano le palle sei tagliato fuori ma ma non si prospetta un bel futuro ragazzi ah no proprio no 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 fratelli miei chi arriva a chiederti il reddito significa che un uomo devastato totalmente invalidato da troppo inghiappato e anziché spararsi in testa tira a campare coi soldi lo stato perché purtroppo non gliela fa e se vede Amy Adams nuda bella tutta nuda con quel seno Amy preferisce sdraiarsi al letto e massaggiare il lembo del cuscino oh quest'emi qui lo farebbe diventare dura anche a San Stefano il più grande martire della storia ecco è finita la trasmissione mi hanno già consegnato la ricevuta a fermare a fregge un bollare in cui dichiare che sono fottuto completamente spacciato e per compassione mi largiranno appunto il reddito da cittadinanza nell'attesa che mi tolgo quanta prima dalla palla è levato da coglione semmai gettandomi dal decimo piano del bosco l'hotel qui a Bologna è uno dei palazzi più alti settando quello che ho reddito da cittadinanza che cazzo che hanno a fare per andare alla merceria e corteggiare la commessa superracchia che indossa le calze della nonna e per guardare le partite di calcio ha fatto col Messi nella Liga ha fatto quell'altro gol nella Bundesliga invece in Premier League che dico nel Ronaldo ieri ha segnato con la Juventus che vita eh che vita straordinaria con sottofondo la musica di Neck e lascia che io sia il tuo brivido più grande agghiacciato meglio farsi prete che credere alle zolcinate patetiche di Filippo Neviani Neck ma sapete perché si chiama Neck? Perché è l'anagramma di Ken, Ken il guerriere ma cosa da ridere, cosa da pazzo, veramente, veramente e tutto questo perché alla domanda di amore su quale sia stato il direttore della fotografia della notte alla città The Night and the City di Irving Winkler produttore da rock che è il remake del film con Rich Wilberg non è lui, nel senso sì, anziché rispondere Tak Fujimoto risposta Rich Sakamoto, quella della colonna sonora di Homicide in Dirett, l'attore da Silence, scusse, non è lui, è lui, è lui, è lui, good night and good luck, ricordate il principe che sono io, cioè il giocatore fa quel cazzo che gli perde la mattina alla sera mentre voi dovete fate che dovete fate gare sudere Ahahah